Allora vi ricordate cosa ci siamo detti giovedì scorso? Singapore non potrà dirci se la SF23 è davvero migliorata perché quest'ultima soffre nelle curve di percorrenza, soffre nei circuiti front limited, non a caso la performance del Gran Premio d'Olanda non è stata proprio eccezionale Però nel circuito di Marina Bay potevamo contare su tratti stop and go, sappiamo che la Ferrari va forte in trazione, potevamo contare sulle temperature basse, su un layout che ti porta a non essere superato, diciamo che se la Red Bull fosse mancata all'appello Sainz l'avrebbe portata a casa e così è stato Il nomignolo al pilota è stato dato, discutibile in quanto per me e il Matador è solo uno e sono anche gioventino, Verstappen ha un po' rossicato ma adesso viene il bello Vai Matador! Una delle due Matador! L'approccio non lo si vuole cambiare e Vastor vorrebbe proseguire su questa scia ma e lo sa benissimo le difficoltà che incontrerà Suzuka sono molte e sono importanti Innanzitutto perché vedremo definitivamente l'impatto che avranno le modifiche alle direttive TT-018 e la TT-39 Per quanto in minima parte sicuramente avrà impattato anche a Singapore, sappiamo che le modifiche sono prettamente aerodinamiche, il circuito di Marina Bay non è proprio uno di quelli dove si mette in risalto queste parti del monoposto Suzuka sì, quindi sarà un banco di prove importante, sicuramente impatterà di più ed è anche per questo che la Ferrari in quei Gran Premio lì ha portato a casa un primo e un quarto posto Tornando a noi, un po' tutte le vetture in realtà sono coinvolte in queste modifiche, non solo i big come possono essere Red Bull e Mercedes Facciamo i nomi, Alpine, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, McLaren e anche un pelo Ferrari, un pelo meno perché non ne ha fatto proprio il suo cavallo di battaglia giocare sulle parti flessibili della monoposto Abbiamo visto qualcosa e ci sono i filmati, scaricatevi Multiviewer, loggate con il vostro account F1 e vi andate a guardare i onboard di Esteban Oconi, i onboard di Verstappen e i onboard di Leclerc E capirete che non è inventato L'unico problema che sussiste è che possono essere visti soltanto in determinate zone, ma qui per fortuna entra in gioco NordVPN che è lo sponsor di questo video Scaricate NordVPN, andate nel link che trovate in descrizione e vi collegate magari in Inghilterra o in America Oltre ad avere la possibilità di guardare i onboard su Multiviewer, ragazzi rimane comunque una VPN Quindi oltre a proteggere i vostri dati durante la navigazione, magari siete in viaggio, si corre adesso a Suzuka, non sapete come guardare la F1 Vi collegate con NordVPN in Italia, aprite SkyGo e vi guardate la gara, che ne so, dalla Svizzera, da Monaco, a posti del genere Vi comunico inoltre che dal mio link per ogni nuovo utente che sottoscriverà un abbonamento biennale Riceverà un buono regalo Amazon, che sarà letteralmente pari al piano che voi sceglierete Che ne so, scegliete il piano standard, costa 10€, riceverete un buono di 10€ Scegliete quello da 20, 20€ di buono Scegliete quello da 30, 30€ di buono Il buono vi arriverà tramite mail tra i 31 e i 40 giorni dopo che avete sottoscritto l'abbonamento Il tempo di capire se NordVPN lo state fregando annullando l'abbonamento o meno Inutile dirlo, se lo annullate non riceverete il buono Però ve lo consiglio perché nel mondo F1 NordVPN torna utile Torna utile per gli onboard, torna utile per guardare le gare Peccato però che NordVPN non possa nulla per bypassare quelle che sono le direttive di Formula 1 quest'anno Quindi abbiamo parlato della direttiva TD18 Delle modifiche di come queste probabilmente impatteranno più a Suzuka piuttosto che a Singapore Ma la FIA ha modificato anche la TD39 La tolleranza della flessione dello skidblock Ossia quella tavola in similegno che è collocata sotto la monoposto, sotto al fondo Essendo una parte molto vicina all'asfalto ha un limite di usura Vi parlo di circa 2 mm, oltre quello non si può andare L'inasprimento dei controlli, soprattutto su quelle monoposto che girano basse Molto basse, che hanno un fondo molto sviluppato Che ne so, Red Bull Potrebbe aver creato delle difficoltà alla RB19 Magari sono stati costretti a rientrare nei limiti di usura Alzando la vettura e o utilizzando, eliminando l'utilizzo di inserti elastici Ora, se dovesse essere questa la causa della defiance di Singapore Ha già inciso, non lo sappiamo per certo e quindi abbiamo bisogno di una riconferma a Suzuka Ma qualora non avesse incise la Red Bull torna ad essere competitiva Suzuka ci dirà che è stato un caso E anche questa è una teoria che può essere per com'è il concetto di questa Red Bull Vi dico, è una teoria non impossibile, ne parla anche Davide Carblogger in un suo video Che ho condiviso in un post in community Questo perché, ad esempio, il circuito di Singapore è un circuito molto simile a quello di Monaco È vero Verstappen quel Gran Premio l'ha vinto, ha fatto la pole position, tutto in ordine Però, se ci pensate, è forse il primo vero Gran Premio dove non ha stradominato Dove è stato sempre in dubbio con Fernando Alonso attaccato alle Calcagna Con Sergio Perez che la lancia in Q1 Ci sono stati tanti problemi che ha dovuto affrontare la Red Bull in quel weekend Essendo il layout di quel circuito non troppo lontano da quello di Singapore Potrebbe essere che la Red Bull in determinate condizioni soffra Poi, che il soffrire della Red Bull è particolare Perché comunque non perdono mai punti, non perdono posizioni È un altro conto Però a Singapore l'han pagato E l'han pagato caro, qualora dovesse essere questa Suzuka quindi si pone come il banco di prova del mondiale Di un mondiale già chiuso, strachiuso, chiuso dal Bahrain Che però probabilmente vedrà vincere la Red Bull in Giappone Col motorizzato Honda E queste cose poi le vedo molto sempre pensate Ok? Comunque, sicuramente ci darà informazioni sulla Red Bull Ma ci darà anche informazioni sulla Ferrari Ci farà capire in che direzione stanno andando gli sviluppi Già è confortante il fatto che la Ferrari si sia presentata in circuito con ali da medio-basso carico La SF23 si promette finalmente scarica Non troppo alta rispetto al normale Favorita forse anche dal nuovo fondo che dovrà debuttare Ma anche qui voglio aprire un discorso Per quanto probabilmente vedremo in pista il nuovo fondo in casa Ferrari Non è detto che quest'ultimo verrà utilizzato in gara E va bene così ragazzi, lo dico pure contento Qualora non dovesse essere utilizzato in gara Ma solo nelle FP1, nelle FP2 Non deve essere considerato un errore La Ferrari è concentrata sullo sviluppo della monoposto 2024 Lo sta facendo, seguendo e migliorando la SF23 Quindi ne conseguono anche dei migliori risultati Si spera in pista Distaccandosi anche in maniera forte da quella che è la vecchia gestione Gestione Mattia Binotto Che prevede dal Gran Premio del Pol Riccardi in poi L'abbandonare la F175 Cosa che non ho mai capito Dunque la SF23 approccia scarica La SF23 si promette con un nuovo fondo La SF23 farà tanto fidamento a quelle quattro curve in croce Dove si frena forte, dove la Ferrari arriva bene Perché in frenata e in trazione va Con l'obiettivo di fare risultati in pista Ma anche di utilizzare quest'ultima come test Il concetto della vettura di quest'anno è già mutato E la vittoria che è arrivata domenica scorsa Lo dimostra, abbiamo anche i test a Fiorano Che abbiamo un secondo dimenticato Dove la Ferrari ha girato con una vettura ad alto carico Dovrebbero essere andati bene Le sensazioni dovrebbero essere positive Lì è stato provato il nuovo fondo Con le dovute precauzioni, con le dovute pinze Penso che in questo momento Per quanto Suzuka sia difficile Si può guardare con una bella dose di ottimismo Che non prevede la vittoria Non è ovviamente impossibile Magari le direttive stravolgono tutto Può andare comunque bene Si è analizzato correttamente Considerando il fatto che per tutti è un banco di prova Quindi abbiamo Red Bull, abbiamo Mercedes Abbiamo Ferrari, abbiamo McLaren, abbiamo Aston Martin Se solo ti riesci a piazzare come seconda forza È un grande dato Mercedes può andare bene Aston Martin può andare bene McLaren, McLaren qui è chiamata pure a fare il risultato Già solo qui abbiamo sei piloti Se poi aggiungiamo i due Red Bull Abbiamo otto piloti Qualcuno andrà per forza male Ovviamente spero non sia la scuderia rossa Vediamo Sono tanti quindi punti che si affrontano L'obiettivo è anche creare una monoposto Che sposi le caratteristiche di Charles Leclerc Perché la monoposto deve essere fatta Per entrambi i piloti Non solo per Charles Non solo per Carlos Sainz Al momento non si può fare una monoposto Solo per Leclerc Solo per un primo pilota Perché ahimè Ragazzi in questo contesto Un primo pilota non c'è Un primo pilota è quello che si piazza davanti in qualifica E l'abbiamo visto a Singapore Poi devono giocarsela ad armi pari Al momento la SF23 è più nelle corde di Carlos Sainz Non a caso è un'eredità di Mattia Binotto Detto questo spero che il video vi sia piaciuto Sono comunque contento della vittoria a Singapore Lo ripeterò per altre 37 volte Iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche Seguitemi sui social mi raccomando Trovate tutti quanti i link in descrizione Trovate anche nel primo commento L'abbonamento a NordVPN Se lo fate dal mio link vi ringrazio di cuore Perché supportate anche il mio canale Io vi saluto Da Antonio Era tutto Passo E'kio da